ciao fabio ciao amici di break tech eccoci a un nuovo video con il nuovo huawei p20 pro che ho acquistato da poco in colorazione nera avrei preferito quella blu o la twilight però va bene il telefono è molto bello esteticamente insomma già lo sapete avete visto è stato recensito da tutti quindi io non vi voglio fare una recensione ma vi voglio parlare dal diciamo dell'esperienza d'uso che ho avuto e le mie impressioni che ho avuto sul telefono telefono diciamo è carino non mi ha fatto impazzire esteticamente il telefono che ho avuto prima di questo è il samsung s9 plus che devo dire che esteticamente è migliore schermo curvo e allora questo uno schermo amoled come vedete colori è uno schermo bello decente ma insomma rispetto all s9 plus non ci sta storia lo schermo samsung è migliore devo dire lo schermo samsung è il migliore la fluidità come telefono insomma ci sta è veloce e reattivo però insomma preferisco lo snapdragon 845 quello nuovo o l'exynos nuovo della samsung questo telefono ha un una fotocamera da 40 megapixel grande più le altre due e devo dire come foto devo dire come foto sono molto belle a mio parere non lo so mi sono piaciute anche quelle samsung vi faccio vedere allora si possono regolare la fotocamera si regola si possono fare foto diciamo notturna molto buone questa è una foto fatta a 40 megapixel in notturna che come vedete quando si va a zoomare si hanno molti dettagli poi si fa si può fare una foto a 10 megapixel che come vedete cattura più luce perché quella 40 di notte cattura meno luce quindi di notte è preferibile usare la 10 megapixel e poi questa è quella con effetto notturno che praticamente da da più da illumina più diciamo la le zone però non è è da usare diciamo prettamente quando è proprio veramente buio qua per esempio c'erano molti luci artificiali dell'hotel e quindi come vedete la la foto a 10 megapixel normale è la foto in modalità notturna sono quasi identiche quindi modalità notturna che si usa veramente e soltanto al buio poi questo i video sono molto buoni sono molto buoni sono stabilizzati soltanto in full hd quindi se volete fare video in in quattro k ve lo scordate che vengono bene vedete che stabilità e il video questo è un video notturna molto bello io camminavo anche veloce ed è molto 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 stabile quindi in full hd se voi superate volete farlo in ultra hd non sarà stabile il video inoltre a due casse stereo questa volta con il dolby surround insomma dolby e si sentono molto bene si sentono molto bene rispetto al mate 10 pro si sentono molto bene ve le faccio ve le faccio sentire volta qui si sentono molto molto potenti questa volta invece questo huawei è il primo huawei che quando si gira da verticale orizzontale non cambia l'effetto delle casse ma rimane identico e comunque si sente molto bene molto forte per il resto batteria veramente che ha superato ogni mia aspettativa perché veramente sto da stamattina acceso a mezzogiorno ci ho fatto di tutto sto ancora al 22 per cento sono quasi le quattro di notte quindi batteria ci siamo la grandissima il samsung lo ricaricavo due volte al giorno per arrivare a a queste cose e insomma che dire buona buona fotocamera all'altezza insomma dells9 plus schermo carino ma non ci siamo proprio non è il massimo proprio suono molto buono si sente molto bene ricezione huawei batteria buona però insomma telefono da 900 euro mi sembra eccessivo naturalmente si trova anche a meno e io penso che questo telefono varrà intorno ai 650 massimo per quello che che fa vediamo la fluidità adesso sto su hd blog entro su una pagina poi esco poi rientro su quest'altra insomma il telefono è un top di gamma quindi va poi lo schermo in hdr quindi se andate su su netflix lo vedrete in hdr e tutto da danix ciao ragazzi grazie